Il Varchi torna a vincere ma comincia poco. No, no, invece ha convinto, ha convinto, se convince poco per voi, per me non ho di sicuro. Oggi siamo ritornati a giocare, siamo ritornati a giocare, si è fatto un grandissimo primo tempo concedendo 0 a un Signa che ha 27-28 punti, quindi non è ultimo. Poi il secondo tempo l'unica incertezza si è avuto, una palla indietro data da Giulio per alleggerire un attimo a una nuova, un rinvio mezzo e mezzo e da lì si è preso la ripartenza. Poi ha fatto un grandissimo gol con Mariotti, è ancora giocatore ma era un giocatore importante da categorie superiori e l'ha messa là dove non batte il sole. E dopo, che ti devo dire, siamo stati forti come domenica, si è avuto una grandissima reazione anche se abbiamo perso il piglio del gioco perché dopo dobbiamo rimettere il risultato in piedi quindi non è che si mette a fare trick e track. Però l'orgoglio è venuto fuori, il rigore è nettissimo perché ho parlato anche con Balestri, abbiamo detto il rigore è nettissimo. Abbiamo vinto 2-1, prendiamo questa vittoria con il carattere, che quello non ce lo possano dire che ci manca. Si può giocare meglio, sono convinto anche io che si possa giocare meglio, ci stiamo provando, a volte ci riesce, a volte come oggi un po' meglio ma a volte altri peggio. Però l'importante è vincere, l'anno scorso si giocava bene, non si vinceva e allora non si vince. Quest'anno si vince, non si giocava bene, io preferisco vincere e fino a che si vince sono contento. E ragazzi più di me. La classe Fianunga, Ministro? Non lo so, non so che hanno fatto gli altri, come ho detto ai giocatori, non lo voglio neanche sapere perché noi quando si pensa agli altri si fa una figura di merda e non se ne ha bisogno. Ministro, più 10, il campionato è quasi chiuso. Lo posso fare mentre sto parlando o mi tocca quando la telecamera è spenta? È uguale. No, non è chiuso, si fa un tempo a fare una figuraccia come si è fatta, non so, aveva 9 punti e siamo andati a 3. Mi è stato attaccato il pezzo perché ogni partita per noi vale doppio. Ancora un'espulsione, ma si sta bene, tranquilli, panchino o no? Ancora un'espulsione, la prima espulsione dell'anno, la scorsa espulsione avvenne quasi all'inizio dello scorso campionato. Solamente ho fatto un gesto di intemperanza perché mi lamentavo per la perdita di tempo, ma bisogna stare zitti in panchina, ne farò tesoro di questo. Veniamo alla gara, Montevarchi torna a vincere in casa ma non convince, il pubblico non è contento. Capisco che in dei momenti, io personalmente ho visto un buon primo tempo perlomeno, poi il secondo tempo si sono chiusi nella loro metà campo e hanno costruito tutti i passi che c'era da poter fare per poter entrare. Abbiamo avuto delle buone occasioni e la prima volta che si sono affacciati Mariotta ha fatto un Euro-Gol degno del nome che porta e della fama di golle da Orqualea. Poi l'importante era ottenere questo risultato, gli altri vedo che vanno un po'... No, no, diciamo che stanno giocando nei momenti, sembra anche per noi. Andava bene anche l'1-1? Ma sempre bene non perdere, perché il punto serve, pensa, ti rinnovo ancora una volta, ma è diverse volte che lo dico. Se non avevamo perso a Figlini e a Grassina c'erano due punti in più e le squadre avevano due punti in meno. 10 punti di vantaggio sulla seconda, il campionato si vuol dire chiuso? Assolutamente, abbiamo visto oggi che la squadra avversaria era ben messa, con noi giocano la partita della morte, domenica ci aspetta una partita importante davanti a una squadra importante che rispettiamo nella maniera più assoluta. e quindi contiamo sull'apporto dei nostri sostenitori e mi auguro che la squadra possa tornare a farli sorridere dal punto di vista del gioco. Io personalmente sono abbastanza contento, magari ci fossero annate sempre in questa maniera, fino a questo momento. E da circa tre mesi Montevarchi non vinceva in casa, ce l'ha fatta oggi? Ci sono delle spiegazioni logiche, abbiamo avuto nei momenti l'assenza di Sussi, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, come l'abbiamo avuto oggi, perché un campionato prevede anche che ci siano dei momenti di difficoltà, non sempre le cose vanno lisce come nelle prime 10-11 partite, abbiamo accusato qualche assenza, qualche inceppamento, gli avversari ci hanno preso un po' le misure e sono squadre non livellate in basso ma livellate in alto, è un campionato molto livellato e lo dimostra il fatto che la domenica gli risultati si sbloccano male.